Allora noi ci candidiamo a governare la regione Campania per fare queste cose, per avere un equilibrio su tutto il territorio regionale, per avere un'attenzione alla fascia costiera, ma per essere in grado di dire anche alle zone interne, all'Irpinia, al Beneventano, qual è il futuro produttivo di quei territori. E tanto per essere chiari, questo equilibrio regionale lo garantisce De Luca, non lo garantisce nessun altro. Non per avere conflitti municipalistici fra i territori, ma per avere una gestione corretta delle risorse, perché i disoccupati di questi comuni valgono quanto i disoccupati della mia città, sono tutti uguali. E bisogna avere una distribuzione di risorse corretta e non penalizzante sempre per le aree interne, che sono completamente sconosciute.